Le truffe informatiche denunciate nel 2023 hanno raggiunto i 139,5 milioni di euro, di cui 111,6 milioni relativi al trading online, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. I casi denunciati sono saliti a 4.329 più il 12%. Sono gli ultimi dati diffusi dalla Polizia Postale italiana. Il fenomeno delle frodi informatiche persiste infatti in maniera significativa su tutto il territorio ed è in forte crescita, una tendenza che va di pari passo agli altri episodi di truffa attraverso la rete. Per questo motivo la Camera di Commercio di Bari ha organizzato un incontro dal titolo Come usare i servizi digitali bancari per difendersi dalle frodi informatiche, organizzato dalla Camera arbitrale della mediazione dell'ente barese in collaborazione con Conf Consumatori Puglia. Il problema maggiore oggi non è più solo il phishing, che è un fenomeno che arriva prettamente dalle mail, ma oggi ci sono altri due fenomeni. C'è il phishing e lo smishing. Sembrano due parole strane, però vi posso dire che sono derivati dal phishing, dove il primo vuol dire una chiamata vocale che potrebbe camuffare una truffa, un tentativo di truffa. Mentre dall'altra parte lo smishing, che stiamo vedendo ormai continuamente ogni giorno, dove arrivano messaggi su WhatsApp, SMS, su Telegram, che ci invitano ad avere offerte speciali, a ritirare assegni che mai nessuno ci ha donato ed eventualmente oggi ritirare dei pacchi che non esistono. Stiamo svolgendo questo convegno anche per tutelare l'utente finale, soprattutto per quello, e nell'ambito dei nostri compiti di funzione di regolazione del mercato. A chiunque di noi è capitato di ricevere una mail strana da un istituto bancario, magari proprio dal proprio, e non sapere come reagire, come rispondere. E questo serve ovviamente a tutelare sia noi, e ovviamente a comprendere se le banche hanno messo in atto tutti quei sistemi di sicurezza che servono a garantire l'utente.